allora amiche dei mici ciao io sempre in casa andiamo a scoprire dove sono andati e sono le 5 e un quarto mose è uscito ve lo dico subito diamo lucino ecco lucino bravo lucino stai qui stai qui che vai bene qui perfetto e mozi io ho un casino ragazzi forse stanotte pulesco mozi eccolo sono sicura che anche lui ha bevuto nella ciotola ma dai mozi ma dai mozi ma perché a pancia in su in giardino sui sassi allora quella la ciotola degli uccellini intanto puoi tornare dentro con la mamma perché stai a pancia in su sui sassi ti avevo pulito tutto io eri pulito è di ciao alle tue amiche ecco di ciao vieni dentro vieni a bere alla fontanella sai che ho messo un po di ghiaccino nella fontanella cos'è qua sempre paura che ti fai male vieni dentro cos'è vieni vieni con la mamma come si fa a preferire di stare qui sembri uno straccio abbandonato guarda come ti sporchi adesso tutti diranno è un gatto si deve sporcare dico certo però sul nero si nota di più io ti porto in casa senti che naso secco che hai vieni basta ti porto in casa sì 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 vai vai subito a bere un altro po' via via Grazie.